La Marzia è lo stesso, che la battevano sempre. Chi la picchiava? Sì, sia, come si chiama, il fratello che poi l'ammazzarono a Napoli. L'ammazzarono a Napoli. Cioè il fidanzato. Il fidanzato. Davo una colpa alla ragazza, alla Marzia, che diceva che la colpa sua era morta il fratello. E doveva fare, io mi sono trovato là un giorno, perché il nipote ricetteva là, ma per il nipote perché la voglia. Gli ho detto là, e che la ricetta da Giappapà a fine Pratama. Chi gliel'ha detto? La Barbara. Da Giappapà a fine Pratama, da Giacir. E l'ha fatto. Io tante volte, una volta mi trovavo in un ristorante giù al mare qua. Ricevo una comunione. Fu invitata lei, da questa qua. Barbara. Barbara. E poi ha detto questa guagliotta, questa Marzia, che correva vicino a me, che mi conosceva. Aiutami, che mi picchiano sempre. Io stavo parlando con lei, diceva, ti vieni a tenere per me. Prattanto arrivava la figlia, la figlia di questa Barbara, e lei, acchiappavano e ci chiamavano due schiappe. La trascinarono, si vengono in due cammini e si fuiettano. Ma è vero anche che la tenevano segregata? Segregata sotto una cantina, sotto casa loro, con le telecamere. I filmini che la facevano prostituire pure, quella povera ragazza. Lei guadagnava soldi. E poi si vengono a prendere sempre i soldi della pensione. Io l'ho vista tante volte, lei e il marito la posto qua, sia la banca che andavano a prendere i soldi. E facevano le torture, tagliavano i capelli a pezzetti, ci facevano la scipura acuta e fuori. E poi con la pinza, che mi venivano a raccontare tutti quelli che praticavano là, con la pinza ci trovavano i rienti. E i dente l'hanno trovato là sopra. La picchiamano i figli, la picchiamano tutti. E torturavano perché dice che erano nasciti, perché non doveva parlare.